La competizione fiscale fra Paesi è un tema molto attuale. Che cosa significa? Molti Paesi, anche all'interno della Comunità Europea, si fanno dumping fiscale. Che cosa significa il dumping? È una pratica con la quale abbassando aliquote fiscali o generando trattamenti fiscali particolari per alcune situazioni, si cerca di attrarre imprese e perché no lavoratori, cioè cervelli, nel proprio sistema. È una pratica non corretta quando diventa particolarmente aggressiva, però purtroppo i sistemi fra Paesi combattono anche in questo modo. A livello europeo si cerca un coordinamento, si cerca addirittura di creare un'aliquota fiscale minima che debba essere comunque applicata per evitare questi comportamenti. Tant'è che però le imprese seguono e si muovono sulla base della convenienza anche fiscale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.